L'università positiva in Europa ha particolari caratteristiche, quali sono? L'università positiva secondo me è un riscoprire il paradigma originario dell'università, è quello che si è sviluppato qua a Bologna, almeno nel modello occidentale circa mille anni fa ed è basato su tre, dal mio punto di vista tre sono le caratteristiche, una è l'autonomia, l'indipendenza da qualsiasi tipo di potere, la seconda è essere aperta, aperta in tutti i sensi, aperta sul territorio, aperta nel senso di capace di aver ricadute positive di lungo termine sulla società, di creare, di interagire col sistema del territorio, le istituzioni, le imprese, creare valore attraverso la formazione, creare innovazione attraverso la formazione innanzitutto che cammina sulle gambe degli studenti, aperta senza barriere geografiche, aperta senza barriere culturali, dicevo dopo i fatti di Bruxelles e di Parigi abbiamo una responsabilità in più in termini di dialogo permanente tra le culture, noi come università e il terzo punto che secondo me è il più importante è centrata sugli studenti, gli studenti sono l'università, sono i protagonisti dell'università, l'università nel nostro modello, quello occidentale, è nata dagli studenti, i rettori erano studenti, quindi un'università alle cui azioni sono sempre mirate nell'interesse degli studenti, questo è quello che secondo me è la declinazione di università positiva. Quanto è importante una formazione che si occupi anche di responsabilità sociale di impresa, di nuova imprenditorialità? Io credo che questo sia una delle sfide più importanti che abbiamo di fronte, almeno noi come sistema universitario italiano, abbiamo dei percorsi di studio che formano degli ottimi professionisti, soprattutto rispetto alle competenze specifiche professionalizzanti, in realtà dobbiamo aprire un po' i nostri percorsi formativi per completare i professionisti con competenze di tipo trasversale, penso alle cosiddette soft skills, penso alle esperienze internazionali, penso alla nuova imprenditorialità, a far comprendere ai nostri studenti che cosa passa tra un'idea e un'impresa. Io in maniera del tutto nuova ho un delegato all'imprenditorialità che mi segue i temi dall'introduzione di questi concetti nei percorsi formativi fino all'imprenditorialità degli studenti una volta che si laureano e quindi al tema delle start-up, dopodiché non è più un tema su cui c'è un intervento diretto dell'università. Quindi io credo che questo, ma competenze trasversali in termini anche di esperienze tirocini, esperienze internazionali, coinvolgimento in progetti di ricerca, coinvolgimento in progetti di responsabilità sociale, portati davanti, dalle università insieme ai propri studenti, perché oltre a formare degli ottimi professionisti dobbiamo formare degli ottimi cittadini. San Patrignano ospita per la terza edizione il Positive Economy Forum, cosa pensa di questa realtà? È una realtà direi straordinaria, io non la conoscevo, sono rimasto davvero molto colpito, tornerò, è una realtà straordinaria e credo che l'abbia colta bene ieri sera durante la cena, quando è stato detto che in una società positiva ci sono tre momenti, c'è una prima azione, il primo momento è quello delle azioni pratiche, poi delle azioni possibili e quando uno arriva allo stadio delle azioni possibili si aprono i scenari impossibili, no? E ecco, San Patrignano siamo già nello scenario impossibile. Grazie. 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 Grazie.